I primi passi verso la nuova sede Via Gioletti 1-3 Il presidente entra dentro la nuova sede Ovviamente è sempre impegnato al telefono Il futuro della protezione civile Entra nella nuova sede I primi passi nella nuova sede Nella nostra sede Un po' da ristrutturare però E questa domani dice su YouTube Un po' da ristrutturare Un po' da ristrutturare Un po' da ristrutturare Un po' da ristrutturare